Buongiorno e benvenuti all'estrazione del concorso G-Mont in Fiera, indetto in occasione della Fiera International Estetica di Roma del 2015. In palio ci sono ben 16 corsi gratuiti. Procediamo ora all'estrazione delle prime 8 vincitrici del corso di gel semi permanente che si svolgerà il 28 febbraio dalle 9.30 alle 13.30. Avriamo l'urna. Sono bellissimi. Primo estratto. Prima vincitrice del corso di gel semi permanente del 28 febbraio. Martina Patrizzi. Secondo estratto. Antonella Gennarini. Terzo estratto. Agnone Nicoletta. Quarto estratto. Mita Mazzemi. Quinto estratto. Alessandra Maria Bardalio. Qualcosa del genere. Quinto estratto. Quinto estratto. Quinto estratto. Giorgia Martino. Sesto estratto. Giulia Retizia Carrera. Settimo estratto. Jessica Arena. Ottavo e l'ultimo estratto. Martina Serrantoni. Martina Serrantoni. Congratulazioni ragazze. Avete vinto il corso di gel semi permanente. Passiamo ora all'estrazione delle 8 vincitrici del corso di self make up. Le prime 4 faranno il corso il pomeriggio del 28 febbraio dalle 14 alle 18. Vediamo le prime 4. Prima vincitrice del corso di self make up è Rago Zuccari. Seconda estratta. Marta Porco. Terza estratta. Linda Denisco. Quarta estratta. Cristina Muratori. Ora siamo le ultime 4 che svolgeranno il corso la mattina del 7 marzo dalle 9.30 alle 13.30. Sara Cinelli. Martina De Bonis. Martina De Bonis. Rita Pedone. Martina De Bonis. Martina De Bonis. Martina De Bonis. L'osito Michel. Congratulazioni alle vincitrici. Martina De Bonis. Martina De Bonis.